ciao a tutti amici carissimi carissime amiche del canale e benvenuti a tutti anche a chi guarda i miei video per la prima volta vi ricordo che per consulenze di tarocchio di counseling professionale con me trovate la mia mail sotto in descrizione allora la domanda che voglio affrontare oggi è un po' una domanda di fisica quantistica quindi sono uno dei tuoi futuri e ti dicono come avete letto dal titolo no perché secondo la fisica quantistica soprattutto il transwerving noi abbiamo diverse possibilità che zealand chiama le varianti e quindi sta molto a noi scegliere e accendere uno di questi probabili futuri solitamente noi stiamo diretti in un futuro ma con la nostra consapevolezza e col nostro libero arbitrio possiamo modificare queste credenze che ci fanno andare in una strada piuttosto che in un'altra naturalmente dipende appunto dalla nostra intenzione dal nostro grado di consapevolezza quindi oggi io volevo un po fare questa domanda per vedere che cosa vi dicono guardiamo un po tutti gli interattivi anche sotto una forma di gioco di suggerimenti e insomma sta poi anche al vostro discernimento prendere quello che vi risuona allora come avete visto abbiamo anche oggi le nostre tre stesure abbiamo la 1 la 2 la 3 e incominciamo dalla 1 e fermate il video se avete bisogno di più tempo quindi stesura numero 1 io sono uno dei tuoi probabili futuri e ti dico che e vediamo che cosa ci dicono queste carte che sono molto predisposte diciamo a dare questo tipo di messaggi e sono anche chiamate le carte della luce e quindi mi piacciono mi piace usare questo tipo di tarocchi vediamo poi se in corso di stesura riterrò di mettercene altri o se saranno sufficienti questi allora stesura numero 1 sono uno dei tuoi probabili futuri e ti dico che tu che stai guardando sei una persona tosta sei una persona forte in questo momento della tua vita stai pensando all'amore stai pensando a una persona che vorresti e stai sognando anche di vivere vicina a questa persona e di compiere un cammino insieme tu hai voglia e senti il bisogno di amare in questo momento tu stai andando appunto io sono uno dei tuoi probabili futuri e vedo sono il tuo futuro che ti dice che tu stai amando e quindi tu stai amando e stai costruendo dentro di te questo amore e quindi io sono già ti parlo al presente però io sono uno dei tuoi probabili futuri e quello che mi viene da dirti è che in questo futuro tu hai sofferto molto e ti stai portando dietro anche delle delle credenze che ti fanno rallentare sul sul tuo sogno d'amore quindi quello che voglio ancora dirti è che tu stai percorrendo questa strada perché veramente il tuo senso evolutivo è proprio amare e dare e donare non solo nell'amore di coppia ma anche in generale a tutte le persone che sono intorno a te e in questo tuo variante in questo tuo probabile futuro c'è l'uomo dei tuoi sogni c'è questo uomo dei tuoi sogni che ti offre una meravigliosa coppa piena di luce e voi potete davvero volare insieme come tu vuoi e potete anche costruire qualcosa che riguarda una relazione questo probabile futuro si accende se tu lasci andare appunto i lamenti e le cose a cui non credi come spiega bene questa carta quindi stesura numero uno qui tu puoi creare veramente questo tuo futuro vedi che c'è anche questa regina in gravidanza che non significa semplicemente o solamente la gravidanza ma anche la vita nuova la creatività una nuova nascita di te stessa tu sei proprio in questo probabile futuro tu sei proprio pronta a vivere l'amore c'è solo una piccola cosa che devi guardare di te stessa perché i tuoi sogni ti incanalino in questo futuro e cioè lasciare andare ti ripeto il lamento e soprattutto avere fiducia che questa strada che è uno dei tuoi probabili futuri è realizzabile come vi dice bene questa carta che fa vedere questa coppia con un leone nella mandorla divina bene stesura numero uno andiamo alla stesura numero due quindi io sono uno dei tuoi probabili futuri giochiamo un po come ho detto all'inizio ma lo ripeto per chi avesse saltato il video giochiamo un po con i principi della fisica quantistica e del surf surfing noi sappiamo che ci sono tanti probabili futuri e a seconda delle nostre credenze noi li possiamo accendere allora vediamo stesura numero due io sono un tuo futuro familiare e quindi dove ci sono io c'è c'è una certa serenità e un certo compiacimento tu sei una persona che ama molto godere delle piccole grandi cose della vita ti piace anche danzare nella vita e io sono questo probabile futuro dove tu veramente puoi vivere l'amore come desideri ricordati però che in questo momento della tua vita per raggiungere questo futuro che sono io il tuo probabile futuro sei un po ripiegato su te stesso e quindi ti sei un pochino sfiduciato indurito o indurita ultimamente quindi voglio dirti che io sono questa bellezza di famiglia del tuo probabile futuro però per raggiungermi pienamente dovrai lasciare andare molto dolore tutto il dolore che hai avuto nella tua vita ed essere fiera o fiero di te stesso di tutto quello che hai raggiunto e di guardare appunto il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto di guardare i tuoi successi anche piccoli successi quotidiani e di non guardare più di lasciare andare proprio la sofferenza io come tuo probabile futuro che sono molto vicino a te ti dico che tu puoi avere veramente una grande gioia e una bellissima vita una bellissima vita personale dove farai e realizzerai molte cose dove realizzi molte cose però vedo anche che tu non hai molta fiducia in te stessa o in te stesso e questo fa sì che io come tuo probabile futuro non mi accenda subito ma ci voglia del tempo perché tu possa realizzare questa voglia di famiglia che hai e qui ti suggerisco se vuoi ricontattare te stessa di entrare in questa tua strada in questo tuo probabile futuro di ritornare come se fossi una bambina o un bambino e di ricontattare quel cuore bambino che non è mai stato toccato da niente e quel cuore innocente questo bambino vive sempre dentro di te e questa è un po' la chiave d'accesso per venire in questa strada che è una delle tue strade non ti preoccupare di niente abbi fiducia nella tua capacità di scegliere la strada giusta perché io ci sono, io esisto già come pienezza dell'essere, come pienezza della famiglia e per accendere questo amore familiare di coppia ricordati di lasciare andare la rabbia anche e io ti darò il mondo che tu vuoi che è già scritto dentro di te e in uno dei tuoi probabili futuri quindi ti dico che tu lasciando andare rabbia, dolore, sofferenza sarai vittorioso e vittoriosa e in questo probabile futuro c'è proprio la famiglia come tu la vuoi bene, andiamo a vedere la stesura numero 3 e andiamo a vedere come dicevo all'inizio e ho ripetuto nell'altra stesura io sono uno dei tuoi probabili futuri e giochiamo un po' con la fisica quantistica e bisogna prendere questi messaggi appunto come suggerimento come dice appunto il Transurfing noi abbiamo diverse varianti e possiamo sceglierne una di loro certamente se noi non siamo consapevoli e non abbiamo un'intenzione chiara andremo nella prima variante che magari non è quella che ci risuona di più e qui è semplicemente un messaggio che vi vuole arrivare da una di queste probabili varianti che però ci sono già perché le varianti ci sono tutte ci sono quelle più vicine e quelle più lontane e questa carta vi dice che voi in questa variante siete delle persone molto soddisfatte delle persone in coppia siete con la persona che amate molto e in questo futuro la sofferenza verrà elaborata in insegnamento e forza quindi in questo futuro voi avrete compreso come si fa a stare insieme all'uomo dei vostri sogni come qui viene perché c'è è uscito come seconda carta e saprete anche appunto come superare gli ostacoli che ci sono stati fino ad adesso per accedere a questa variante dovete vedere tutto quello che c'è stato fra di voi di poco bello e di poco chiaro come un insegnamento e dovete anche un po' avere pazienza e sorvolare su le cose che non vi sono chiare che non vi sono state chiare questa variante questo probabile futuro vi dice che voi potete assolutamente fluire una volta lasciate andare queste dinamiche queste sofferenze che ci sono state col partner perché sono state funzionali e ora non vi servono più ora siete pronti in questa variante in questo probabile futuro che comunque c'è è vicino a voi siete pronti veramente ad avere un'esplosione di vita gioiosa e proprio con la persona che volete siete pronti a vivere in armonia e a vivere con diciamo il terzo occhio sempre aperto quindi molto vigili ma in modo naturale e siete pronti quindi a fare un vero cambiamento una vera trasformazione di voi stessi e in questo futuro in questo probabile futuro e questa variante c'è l'uomo dei vostri sogni che si alleggerirà anche come carattere come dice anche la prima carta e diventerà più leggero diventerà più leggero viverlo e anche per voi nel momento in cui avete portato alla coscienza queste cose che sono state dette per raggiungere la vostra variante anche per voi viene questa meravigliosa carta di compimento dell'amore dove appunto c'è tutta un'energia di luce positiva che vi accompagna insieme alla persona che voi meritate e che amate bene abbiamo fatto questo gioco di fisica quantistica con i tarocchi e io vi ringrazio dell'ascolto e a presto arrivederci grazie a tutti